Buongiorno, Master, Maestro o semplicemente David Lynch. It's October 23, 2021 and it's Saturday. Green Naples around 70 Fahrenheit and 21 Celsius. Questo significa che è quella giornata veramente, 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 veramente mite, come in questi giorni, in questo periodo, e sì, siamo proprio in quell'atmosfera lì. Quindi, oggi, prima di tutto, volevo fare gli auguri a mia zia, una mia zia acquisita, compie 41 anni, zia Roberta, su Very Happy Birthday to her. E poi, pensavo al fatto, e quasi sicuramente dirà la frase sui weekend projects, ormai una delle sue frasi cult, giorno numero uno, poi pensavo al fatto che la domanda che ci ha fatto a tutti domenica sul fatto se considerare il weekend in tre giorni o due giorni, Io credo in tre giorni, in realtà, perché si considera anche venerdì, ma il venerdì, ma dipende comunque alla persona, anche solo sabato e domenica, va bene. E quindi la ringrazioni anticipo e poi ricambio anche per i suoi progetti, anche se nel mio caso, poi in fondo sono sempre gli stessi la settimana. E poi pensavo al fatto che ieri, per caricare l'episodio, il non-episodio della mia serie, cioè la nostra serie, su quattro virgolette, di Seth Friday, di Wednesday Guy, sono riuscito a caricare, ovviamente, il tutorial di Mr. Rock, Betty Team, Betty Team, da Moulou Landrat, composto ovviamente d'Angelo Badalamenti. Questo lo sto facendo in occasione di vent'anni del film, nell'anniversario dei vent'anni del rilascio del film. Però praticamente, sicuramente, l'ho caricato, tra qualche ora, prima del riporto, dopo, comunque sicuramente oggi, ma nel caso, poi inserisco il link del video con alcune informazioni. Anyway, as you just see from the window, Today we don't have those beautiful blue skies and golden sunshine, as you see, it's totally cloudy, totally grey atmosphere. E credo che, come sto dicendo, in questi giorni quasi certamente potrebbe piovere. Ovviamente le cose possono sempre cambiare a momento all'altro, ma in questo caso ho dubbi totali, che possa accadere il contrario. Il caso dovrebbe essere così, anche nei prossimi giorni, almeno da quello che ho letto. Ma, come sempre, vedremo, Siete di questo, So, From the mythical window, The colored curtain, Is beautiful, But always dark, Caso dell'atmosfera. Colored curtain, And it's a green Roller shooter. Behind the mean. And finally, From my mythical keyboard, Yamaha DGX 640 IPG 625 Have a great day. Im Yusufo Vi so follow, Il mio più grande follower ancora al momento, Ma anche Douglas E Molly, Che credo siano parenti, Non lo so con sicurezza, Però, Peccato che non li sento da qualche giorno, Non nei commenti, Ma anche a loro, Un grande saluto. Special greetings. E anche, forse, Una new entry, Patrick o Patrick, Non so in realtà come si pronuncia veramente, Spero che anche lui Mi segua, Diciamo, Da, Stunto in poco, Una certa frequenza. A great day. So, Again, To him, To all these people, And everyone too.